Non sai che disegnare le kilortiche? E allora a posto, facciamo un disegno facile per tutti Bagniamo il foglio con un leggero strato di rosa maiale E oh, cos'è quello? Un ramo di ciliegio Mi raccomando, i rami molto delicati Che sono molto simili alle vene varicose E qua facciamo veramente tutto con due colori, tutto lì Le foglie idealizzate, anche se non sembrano foglie, chi se ne frega A voi piacciono le ciliegie? A me no Questo è un buon esercizio per tutti, infatti vi consiglio di farlo anche senza reference Et voilà, che dire, oggi mi sentivo un alberello